Presentato nel corso dell'ultima edizione del RIF, Ciao Anita, è un lavoro, un racconto dedicato proprio ad Anita Eckberg che è stata intervistata nell'ultimo anno di vita quando si trovava all'interno di una casa di cura fuori Roma. Come mai si è aspettato un po' prima di far uscire questo progetto che non è stato montato subito dopo la morte dell'artista ma appunto in un secondo momento? Anita era una persona molto vitale quindi quando noi abbiamo raccolto questa sua testimonianza lei si è un po' calata nel suo ruolo e ha fatto l'attrice di se stessa e quindi lo scopo di quel racconto era quello di fare un lavoro sui suoi sogni ancora non realizzati con tutti i suoi desideri. Poi è successo che la situazione è precipitata e noi la cosa ci ha spiazzato e abbiamo dovuto pensare un po' prima di capire come riutilizzare un materiale che poi non poteva essere ampliato in nessun modo in quanto lei non c'era più. Abbiamo fatto le riprese al suo funerale, abbiamo fatto le riprese in Svezia, abbiamo fatto le riprese, siamo andati a cercare una sua vecchia amica, una cantante americana, una crooner diciamo, che vive in Spagna e siamo andati da lei e lei ci ha fatto un racconto anche delle cose che non sapevamo e quindi è anche Jacques Lipcau che è stato il coautore per questo film aveva, la conosceva bene perché praticamente lei era stata rappresentata da lui con la William Morris molti anni prima e poi nell'ultima parte della vita sapendo che era in difficoltà lui l'aveva ricontattata ed erano diventati molto amici quindi era un lavoro amichevole che quindi la finalità era un'altra. Importante il lavoro che è stato fatto in termini di colorizzazione in fase di post-produzione di questo racconto, che cosa è opportuno sottolineare rispetto a questo preciso lavoro che è stato effettuato da Emanuela Parisi? Partendo proprio da questo fatto che noi dovevamo costruire un film senza avere certi materiali, l'abbiamo arricchito della colorizzazione di materiali d'archivio. Noi abbiamo un gruppo di colorizzatori all'interno dell'Istituto Luce e abbiamo preso dei repertori dell'Istituto Luce, che ce l'ha dati ovviamente, e abbiamo colorizzato solamente le immagini di Anita, di suo marito, del suo patrimonio. Insomma abbiamo cercato di far capire al pubblico che lei veniva fuori da queste immagini, cioè emergesse a colori sul bianco e nero e quindi è stato un esperimento. Noi in realtà facciamo altri lavori ben più ampi, però questa è stata anche una forma di omaggio nei confronti di lei. Sono state colorate anche circa 50 fotografie dell'archivio suo personale e effettivamente l'effetto è all'altezza, perché vederla bionda, con un carnato giusto, con dei bei vestiti, certo è molto meglio che vederla bianco e nero. I soggetti che fanno la colorizzazione nel mondo sono pochi e in Italia non c'è nessuno. Noi sono tanti anni che cerchiamo di fare questo tipo di lavoro e man mano, dopo aver fatto tre film con l'Istituto Luce, prodotti dall'Istituto Luce, su repertorio di guerra, su film che hanno come sfondo la guerra, la grande guerra, abbiamo affinato mano a mano questa tecnica e ci è venuto in mente, mettendoci d'accordo con la Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e con l'Istituto Luce, di fare un centro di eccellenza all'interno dell'Istituto Luce. Quindi c'è una filiera, se uno va a Cinecittà, entra con la sceneggiatura e esce col film sotto al braccio, però questo pezzo della post-produzione mancava. La colorizzazione, siccome traccia i movimenti che stanno sopra una scena, ha anche mercato nel campo del motion tracking degli effetti speciali, col vantaggio che la tracciatura di una colorizzazione molto più raffinata che quella di un effetto speciale. Quindi noi possiamo dare un servizio ad alto valore aggiunto a un prezzo forse più basso per operatori degli effetti speciali e all'interno di Cinecittà ci sono. Per questa attività abbiamo fatto un accordo a tre, Istituto Luce, Lazio Innova e noi di Human Touch e abbiamo già fatto un primo corso, diciamo più una selezione attitudinale, perché per imparare ci vuole molto tempo, a maggio, che è durata un mese, che si chiama Lazio, si è chiamata Lazio Film Lab. Adesso c'è la seconda edizione dove noi facciamo lavorare veramente quelli selezionati su un lavoro vero e che sarà su un film del 1933, molto bello, girato dall'Istituto Luce, si chiama Ritmi di Stazione e che verrà poi museato questo prodotto all'interno del Museo di Cinecittà e questa cosa comincerà nei prossimi giorni.